Salve ragazzi, vabbè sto col giubbotto perché oggi fa freschetto dalle mie parti, è una bellissima giornata piovosa, mi fa veramente, mi rinfresca l'anima la giornata piovosa. Allora, quest'oggi parliamo del nostro futuro presente e passato, come tutto è già scritto, il perché è già scritto partendo dalla struttura temporale, sia temporale e sia dalla struttura delle cose e degli esseri. Tutte le cose che compongono questo universo rispondono a delle leggi, azione e reazione, che è un po' una sorta di terzo principio della dinamica, no? A ogni azione corrisponde una reazione, lo stesso vale per le trasmissioni della corrente, le trasmissioni radiofoniche, le trasmissioni di qualsiasi tipo di trasmissioni, neuronali, qualsiasi tipo di trasmissione. Allora, se noi andiamo ad analizzare, ad analizzare a livello grandangolare, no? Analizziamo a livello grandangolare da quanto, macroscopico, no? Da quanto siamo qui e che cosa è successo. Ogni singolo essere che compone questo universo, sia essere che oggetto, è sottoposto a delle leggi universali. Queste leggi universali sono logiche. Partiamo per esempio con l'essere umano, no? Che è il soggetto in questione. La sorte, quella che viene chiamata sorte. Perché la sorte, secondo la mia teoria, è già scritta? Ma è semplicissimo. L'essere umano ha una serie di caratteristiche genetiche. Queste caratteristiche genetiche vengono tramandate dagli avi, dai genitori, progenitori, bisnonni, avi, eccetera, eccetera, eccetera. E queste variazioni, o queste che sono le trasmissioni di questi geni, la trasmissione genetica, partono tutto quanto da uno stato logico iniziale. Ammesso che c'è stata questa evoluzione, perché comunque una piccola forma di evoluzione c'è stata, adesso che sia naturale o che sia artificiale, creata da alieni, a noi poco ci interessa in questo frangente. Fatto sta che c'è stata questa evoluzione, che comunque è tutta un'evoluzione logica. Addirittura, paradossalmente, si potrebbe prevedere il futuro. Vi spiego. Io metto una pallina da biliardo al centro di un biliardo, poi con una stecca, cerco di colpire l'altra palla, l'altra palla, per mandarla nella buca. È chiaro che prima di colpire la palla da biliardo, per mandarla con la stecca, la mando in buca con l'altra palla, io posso prevedere il futuro. Ammesso che abbia una visione d'insieme quasi perfetta della situazione, cioè la direzione della stecca, l'intensità del moto che io applico sulla prima palla, c'è l'abrasione che fa il tavolo sotto la palla, l'impatto con l'aria. Io posso in qualche modo analizzare tutta una serie di parametri e capire se la palla andrà in buca o no. Chiaramente esiste un coefficiente random, chiamiamolo così, ma in effetti non è così, perché se includiamo una variabile in random tutto il discorso cade. La variabile random in effetti non esiste, specialmente quando parliamo del random dei computer. I computer dentro hanno una sequenza random che viene generata da, per esempio, un condensatore che si scarica, oppure dei parametri di noise, di fruscio, che comunque sono sempre parametri logici, per cui derivano da una logica. Se io sento un fruscio è perché da qualche parte o l'insieme di più parti viene prodotto, logicamente c'è un impatto, un coefficiente sterico di questo fruscio, e arriva praticamente questo fruscio apparentemente casuale. Ma il caso non esiste, il caso non esiste, il caso noi definiamo caso quella cosa che noi non riusciamo a definire in quanto non abbiamo la risoluzione degli apparecchi per misurare le cause. Ma ogni cosa, come il terzo principio della dinamica, che in qualche modo condiziona una reazione, quindi una reazione uguale e contraria, come nelle grandi cose che noi possiamo vedere, succede fino nel micro-universo perché è proprio una legge dell'universo. Se noi ragioniamo in questi termini, azione e reazione, sappiamo che tutto quello che succede è logico, è logico. Cioè, anche cose apparentemente non spiegabili che noi possiamo attribuire alla non logica, alla casualità, non causalità, alla casualità, cioè al caso. Cioè, ma è una cosa, sai, è una cosa random, è una cosa casuale, è successa così. No, assolutamente. Se viviamo in un universo governato da azione e reazione, automaticamente tutte le cose che succedono sono il frutto di una logicità, ok? Di una cosa logica. Allora, se io mi trovo in una circostanza particolare, genero altre circostanze particolari che obbligatoriamente si devono creare, e a monte sono stato generato da altre circostanze particolari tutte logiche, matematicamente si presuppone che il destino è già scritto, in quanto se io, tornando al bigliardo, con questa stecca, colpisco la prima palla in modo tale che colpisca la seconda e vada in buca, significa che io posso prevedere che se io colpisco quella palla in quel modo, la palla andrà in buca. E perché io dovrei colpire quella palla in un preciso modo? Perché magari ho fatto allenamento, e perché ho fatto allenamento per altri motivi che sono tutti motivi logici. Ipoteticamente, se avessimo un computer e una serie di analizzatori della realtà, potremmo scoprire che siccome che tutto è logico, anche il futuro è prevedibile e logico. Io non so se mi sono spiegato, ma mi vorrei spiegare meglio, perché è un concetto apparentemente complesso, ma se noi andiamo ad analizzare, non è così complesso come sembra. Vi ripeto, la causalità, causa-effetto, il nostro universo è soggetto alla causalità, ok? Per cui i miei genitori, che sono stati generati dai loro genitori e così via, sono stati una conseguenza, una conseguenza di cose logiche, d'accordo? Se tutti siamo una conseguenza passata di cose logiche, di conseguenze continue, il nostro presente sarà la risultante di queste cose logiche passate. Se le cose passate sono una conseguenza logica di azione e reazione, ok? Di una legge universale, il presente sarà governato da queste cose logiche, che è la risultante del passato, ma il futuro sarà una risultante logica di quello che è il passato e il presente. Per cui, tecnicamente, se io conoscessi tutto l'universo, potrei predire il futuro, in quanto so che quella persona andrebbe a parlare con quell'altra perché ha quella struttura mentale, perché quella struttura mentale gliel'ha trasmessa il genitore, che gli ha insegnato alcune cose, perché gli ha insegnato alcune cose, perché i loro genitori a loro volta hanno insegnato, hanno fatto, quindi è tutta una conseguenza di cose logiche. Quindi abbiamo il passato, il presente, che non esiste perché, diciamo così, sta in mezzo, e una linea di demarcazione, di separazione, è il futuro. Se tutto il passato è una conseguenza logica di cose, arriviamo fino al presente, il futuro è prevedibile perché il futuro è una conseguenza del passato e del presente come cosa logica governata da una legge universale, che è la legge della logica, azione e reazione, e tante altre cose, a tante altre leggi di questo genere. Quindi, deduzione matematico-logica, permettetemi questo termine, matematico-logica, questo termine, e praticamente si deduce che il futuro è tutto scritto, non c'è niente da dover inventare. Sotto questo profilo matematico-logico e analisi realistica di quello che è il passato e le conseguenzialità, le conseguenze o conseguenzialità, come dirsi voglia, parametriche, tramite l'analisi parametrica di una conseguenzialità passato-presente, possiamo ricavare come una formula matematica il futuro. Qual è l'ostacolo? L'ostacolo è che non abbiamo la conoscenza di ogni singolo dettaglio, quel singolo dettaglio che potrebbe essere l'attrito della palla sul biliardo, oppure in quel momento il mio cervello ha avuto un attimo di defaianza e ho colpito con la stecca la palla in modo anomalo, ma il fatto che il mio cervello ha avuto quella momentanea defaianza e mi ha fatto sbagliare è una conseguenza a sua volta logica del mio cervello, del mio status, per esempio ero in quel momento stressato, ok? Perché ero stressato? Perché la mia forma mentis mi ha fatto fare delle cose che non mi ha fatto dormire, in quel momento ero stressato oppure ero particolarmente teso e mi ha fatto sbagliare, ed è pur sempre una conseguenza logica, per cui prevedibile, analizzabile matematicamente, e quindi deduciamo che con questa analisi ipotetica a livello di parametri generali, quindi parametrica, non analizziamo questa influenza di tutte queste forze e eventi, se noi avessimo la padronanza di questi eventi, potremmo predire perfettamente il futuro, ma non è questo il fine ultimo di questo video, il fine ultimo di questo video è che se si può predire il futuro perché conosciamo tutti gli eventi e come ci comporteremo in futuro, come ci dobbiamo comportare, che cosa faremo nel futuro, vuol dire matematicamente che il futuro è già scritto. Un abbraccio a tutti, mi dispiace per qualcuno che potrebbe avere qualche crisi mentale su questo concetto, perché in effetti c'è da pensare, rifletteteci un attimo, magari se non mi sono spiegato bene provate a rivedere il video e a cercare di capire le mie parole. Un abbraccio a tutti, Spectro Maledicto.